avete presente la musica che ho fatto che si intitola ormai non mi distruggi ecco era riguardante il boss della mappa minor tycoon il boss di halloween e adesso mi sono messa a registrare un video dove vi faccio vedere che sconfigo il boss da solo perché ormai lui non ci distrugge più anche se noi siamo da soli a combatterlo ovviamente se avete bisogno di combatterlo chiedete a me che io vi aiuto a combatterlo e niente comunque vi lascio al video che io distruggo il boss ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.